Proseguono le indagini della Digos della questura di Pescara per cercare di identificare i responsabili dell'atto incendiario commesso due notti fa ai danni delle due autovetture del patron biancazzurro Daniele Sebastiani. Le immagini delle telecamere mostrerebbero qualcosa di interessante su cui si stanno facendo approfondimenti. Intanto oltre al mondo dello sport anche l'imprenditoria cittadina manifesta vicinanza al presidente della società biancazzurra. Quello che è successo ci ha colpito tutti perché certe manifestazioni, mi permetto di definirle così, non fanno parte della cultura della nostra città. Lascia perplessi un attentato incendiario con delle conseguenze che ci potevano essere estremamente gravi. Lasciano estremamente perplessi perché nella nostra città sì sono successi fatti eclatanti ma questi accadimenti che ricordano alcuni fenomeni in particolare del sud Italia, mi dispiace dirlo ma è così, da noi non si erano mai visti. Per cui devo dire la verità al di là dell'immagine della città e ha detto bene Daniele Sebastiani qui lasciamo perdere la Pescara Calcio, l'immagine della città che ne esce male. Pescara è sempre stata una città estremamente accogliente per cui questo, quello che è accaduto, lascia molto molto perplessi e io mi auguro che quanto prima le forze dell'ordine mettono le mani addosso a questi delinquenti e li portino nelle patrie galere perché è veramente grave quello che è accaduto. Il calcio è diventato un fenomeno globale, stiamo vedendo le cifre che vanno in giro, comprendiamo che forse il fenomeno va un attimino anche un po' originato perché le cifre stanno diventando assurde. Il punto qual è? Un imprenditore come Sebastiani che sei anni fa, sette anni fa rilevò una società di fatto fallita, oggi aver avuto successo perché è innegabile che lui sia arrivato due volte in Serie A ma la Serie A come sempre ci siamo detti purtroppo è un campionato completamente diverso dove le cifre che le dicevo, quella dilattazione delle cifre porta per le piccole società come la nostra, una gravissima difficoltà per essere competitivi.